Oltre 35.000 persone si sono riunite venerdì sera davanti al Parlamento austriaco per protestare contro l'estremismo di destra. La protesta arriva sulla scia di manifestazioni simili in Germania dopo la diffusione del presunto piano di deportazione di immigrati dal paese, presentato durante un evento a cui hanno partecipato imprenditori e politici dell'estrema destra. Dal palco davanti al Parlamento sono partite accuse al Partito della Libertà Austriaco, accusato di sostenere tale piano e manifestanti hanno messo in guardia i politici su una pericolosa ripetizione della storia.